Quando mancano due mesi all'avvio del primo Expo nel mondo arabo, quattro studenti di Università Toscana e unnati in Toscana si stanno preparando insieme ai loro colleghi di tutta Italia per trasferirsi a Dubai per svolgere un tirocino della durata di quattro mesi. Il programma costituisce un'occasione di formazione unica che i candidati selezionati avranno la possibilità di vivere presso il sito espositivo italiano e con la quale potranno ampliare le proprie conoscenze in ambito internazionale contribuendo all'organizzazione e alla gestione della partecipazione italiana al più importante evento internazionale mai organizzato nell'area che comprende il Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale. I volontari saranno dei veri e propri ambasciatori della partecipazione italiana a Dubai. Daniele Daddato, Mariam Talbi, Alessia Carbonaro e Chiara Salamina sono i nomi degli studenti toscani che saranno a Dubai. Ho deciso di prendere parte all'Expo 2020 come volontaria perché penso sia un'esperienza di indubbio valore e che porterà arricchimento a livello personale e relazionale e spero porterà anche nuove conoscenze e competenze professionalmente utili. Da questa esperienza mi aspetto di migliorare le mie capacità di lavorare a contatto con le persone e in coordinazione con gli altri. Mi aspetto di imparare qualcosa anche dall'opportunità di esperire in modo diretto i retroscena, gli aspetti organizzativi di eventi internazionali della portata così ampia come l'Expo.